Benvenuto, amico mio. Quanto tempo. Non toccarmi. Ehi, che piacere vederti, fratello. Non siamo più, fratelli. Perché dici così? Mi hai sentito, certo che siamo fratelli. Hai voluto fottermi. No, non è vero. Sì che mi hai fattuto. Mi hai pugnalato alle spalle, hai voluto tagliarmi fuori. Come io? No. No, mai, George. Mai. Ho parlato con Derek. Beh, forse hai ragione. Forse ti ho tradito. Un pochettino. Già. Sì, ti ho fregato il tuo contatto californiano. E allora? Chi ti ha presentato a Pablo Escobar? Io. Io. Chi ti ha presentato alla tua fottutissima moglie colombiana? Io. Chi ti ha protetto quando il mio amico Cesar Rosa voleva tagliarti la gola da parte a parte? Eh? Io. Chi ti ha fatto guadagnare milioni e milioni di dollari? Io. E cosa ho avuto in cambio? Accusi. Ingratitudine. Io ti ho sempre dato tutto quello che potevo. Sempre. Ma... Adesso è tutto finito, George. è la mia operazione, il mio sogno. Quindi va a casa. Vattene a casa. Torna alla tua stupida vita pidocchiosa. Torna pure a vendere mezzi grammi ai tuoi parenti del cazzo, tanto ormai sei fuori. Deccalo, deccalo, deccalo! Ando! Sei fuori ormai. E non prendere le cose in modo così emotivo. Siamo fratelli. Siamo fratelli io e te. Gli eveneste come mierda! La prossima volta la carico. Vai, vai. 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 Salutami la tua bella mogliettina. Come no? Vai. solo. Vai. Sì. 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 Sì.